Francesco Iacono, comandante dell'MSC Musica, quali sono le caratteristiche di questa unità? Prima di tutto è una bellissima nave, è nata nel 2006 dai cantieri di San Anzer ed è in servizio da 13 anni, la nave è lunga 294 metri ed è larga 32, ha una potenza di 11.600 kilowatt per motore e ne abbiamo 5, abbiamo equipaggiato con 3 bautruster, 2 stentruster e abbiamo con elica fissa e Timone Baker Radar, molto manovriera, facile per chi se ne intende, da manovrare e da portare in sicurezza nei vari porti di scala. Quanti passeggeri può accogliere? 3.223 passeggeri e attualmente abbiamo 980 membri dell'equipaggio. Il vostro itinerario prima di arrivare a Livorno cosa prevedeva e dove andrete? Noi siamo partiti da Venezia per Dubronik, Corfu, navigazione, passaggio dello stretto di Messina, ieri siamo stati a Napoli, oggi Livorno e domani Genova dove finirà la crociera. Per lei che cosa significa essere comandante di una nave come questa? Prima di tutto è un'emozione, un'esperienza bellissima, essere il comandante è come essere il sindaco di una città di piccola media grandezza, quindi con tutti i problemi annessi e connessi al vivere quotidiano, tenendo in conto che gli ospiti vengono a bordo per divertirsi e rilassarsi in tutta serenità.